Ciao! Ciao! Si potrebbe sbagliare. Gli esami potrebbero non essere esatti. Ma non è probabile. Quindi? Quindi cosa? Purtroppo devo confermare la diagnosi di IPF. La sigla significa fibrosi polmonare idiopatica. È una malattia rara, grave, che necessita trattamento. Io capisco che sia difficile immaginarlo adesso. Ma dobbiamo concentrarci sui sintomi. Per essere pronti. Per affrontarli meglio. Insieme. Fame d'aria. Dolori muscolari. Tosse persistente. Dolori all'aria torace. Per prima cosa, non arrendersi. Devi studiare. Devi... Calma, calma, calma. Devi reagire. Un cinghiale, grande, ghiottone... C'è Emilia a cui pensare. Se ne sta nel suo lettone. Sdraiato. Dobbiamo fare qualunque cosa, hai capito? Questa non è per forza la fine. Ciao. Le cose che vuoi fare, le cose che sono importanti, non sono cambiate. Ciao, papà. Ciao, Emilia. Hai solo meno tempo. Questo sì. E quindi usalo al meglio. Uno, due, tre, sta là. D'ora in avanti ci sentiremo sempre peggio. Non staremo mai meglio di così. Accettalo. Uno, due, tre, sta là. Papà, stai bene? Sì, sta bene, Emilia. E ogni giorno che passa sarà stato il nostro giorno migliore, capito? Lo so che non vuoi che ci vedano così. Ma non vuoi neanche essere solo, credimi. Quindi, appena si presenta l'occasione, tu... Devi chiedere aiuto. Non lo so che cosa ci aspetta. Ma come non sei ancora andato a letto? Ma io so come lo affronteremo. E qualunque cosa succeda... Non sarai solo. Ti vediamo domani. Sì. Andiamo. Uno, due, tre, sta. Grazie a tutti.